Bene carissimi amici, ben ritrovati sul mio canale, siamo qui nell'appuntamento insieme di analisi e estrazione per quanto riguarda il quale estrazionale di sabato 27 maggio. Bene, questo quale estrazionale ci dà ancora delle forti e bellissime indicazioni per quanto riguarda già l'estrazione di questa sera, quella del 30 di maggio, di martedì, ultima mensile. Bene, cosa vediamo ancora tra le ruote di Bari Cagliari? Sapete che vi ho regalato un bel 90, per me questa coppia di ruote è fantastica, vi ho regalato il 90 in quarta e quinta posizione, chi non ha preso i tre ambi, previsione totalmente gratuita, mi contatti via whatsapp 348 75 47 715, il numero lo trovate anche in descrizione. Vi darò tre ambi sulle ruote di Bari Cagliari con il 90, molti li stanno già giocando perché mi hanno richiesto la previsione gratuita via whatsapp. Notiamo che questo bel 90 su Bari Cagliari è in conferma dalla bellissima somma 90 in cadenza 5, 15, 75 su Cagliari, tra l'altro abbiamo il 39 come spia e il 10 che è anche un segnalatore, quindi Cagliari molto forte. Ma guardate questo triangolo che si è formato di figura 9 tra le ruote di Bari Cagliari, 54, 63 e 18. Qui arriva un 90 da sballo, qui arriva un 90 fantastico, un 90 da brivido. Attenzione a puntarlo molto forte, molto forte. Quarta e quinta posizione, mi raccomando a questo 90, mi raccomando a questo 90, l'85 di Bari lo porta come segnalatore. Mi raccomando perché è un 90 tra le ruote di Bari Cagliari, veramente interessantissimo. Nell'estrazione del 27 abbiamo avuto proprio 54, 63, 18. Questo triangolo di figura 9 mi piace molto. Il mio 90 segreto è in gioco ancora due colpi, vediamo se ci porterà qualche vincita. Le ruote Genova-Palermo-Torino, lo abbiamo vinto questo mese due volte a Palermo in posizione. Vediamo se arriva Lambo. Però sono tre ruote in conferma, in quanto Genova è veramente potente. Abbiamo il gemello in terza posizione, che dice sì al 90, quindi Genova e Torino. E chiaramente anche la sua gemella, Genova-Palermo. Il 48 di Palermo è una spia del 90, accompagnato dal 72 figura 9. Quindi anche qui risulta interessante, ma se andiamo indietro, noi notiamo intanto il 9 su Genova, però notiamo l'84 sulla ruota di Genova come spia, distanza 1, 83, 84. Quindi tra le ruote di Genova-Torino c'è un 90 veramente forte. Il gemello in terza, doppio gemello unito, guardate Torino, annuncia ancora Genova-Torino. Quindi per me Bari-Cagliari-Genova molto forti per quanto riguarda questo 90. Abbiamo anche Napoli, Napoli porta il 20, grande spia, la doppia cadenza 6 unita, il 72 figura 9 e il 39 spia. Abbiamo 20, 39 spia del 90, la doppia cadenza 6 e la figura 9, 72. Quindi Bari-Cagliari-Napoli-Genova per me sono le ruote migliori. Per quanto riguarda questo 90. Vi ho regalato quel bel 90 su Bari-Cagliari, non lo perdete assolutamente. Chi non ha preso i triambini, i contatti. Notiamo su Firenze la distanza 1, 69, 70. Il doppio venti lo vediamo sia Milano sia Napoli e anche Milano e Venezia dovrebbero portarlo in questo mese di giugno. Quindi aspettatevi un mese di giugno molto bello per il 90, arriverà su diverse ruote. Infatti Milano abbiamo il 20 con la figura 9, 45. Venezia che porta il 5 e l'86 di cadenza 6. Nazionale potrebbe riportare la ripetizione, abbiamo l'89 come spia, il 6 in terza, molto bello. Quando esce il 6, quindi numeretto di cadenza 6 in terza posizione, è molto forte per quanto riguarda il 90. Torino porta un vertibile unito 14, 41, anche questo un bel segnale, distanza 2, 28, 30. Distanza 2 anche su Roma, 71, 73. Vediamo se c'è ancora qualcosa. Queste sono insomma le indicazioni generali di questo quale estrazionale. Quindi vediamo nell'estrazione di martedì 30 quello che arriverà. Per adesso saluto a tutti i Visters Bancolò.